In nuovo video importantissimo, quest'oggi parleremo di contratti e contrattualistica, uno strumento importantissimo per la buona riuscita del nostro business. Infatti, come ben sappiamo, buona parte del nostro business si basa proprio sui contratti che andiamo a stipulare con i proprietari di casa, agenti immobiliari, eccetera, eccetera, eccetera. Se decidiamo di lavorare in property management, utilizziamo una tipologia specifica di contratto che ci permetterà di operare e guadagnare ad investimento zero. Se decidiamo di operare in sublocazione, avremo un'altra tipologia di contratto che deve espressamente accettare la sublocazione e permetterci di operare in maniera 100% legale, in maniera serena. Quindi i contratti e la contrattualistica in generale sono degli strumenti indispensabili per chiunque voglia svolgere questo business. E l'errore che fanno in tanti è quello di utilizzare dei contratti trovati su Google a caso, ma non si può costruire un business solido, non si può basare il nostro futuro su dei contratti trovati online gratuitamente e ricordatevi che nessuno vi regala niente. Quindi un contratto trovato online quasi sicuramente sarà un contratto che presenta degli errori, delle falle, anche superficialità. Quindi, mi raccomando, non utilizzate i contratti che trovate online. Che contratti dovreste utilizzare? O farvene creare ad hoc dal vostro avvocato, se ne avete uno, oppure potete utilizzare i contratti che forniamo noi all'interno di B&B Academy, inclusi nel percorso di formazione, redati dai nostri avvocati e utilizzati da migliaia di studenti B&B Academy, quindi migliaia di host. Questi contratti sono stati ultra comprovati, sono stati depositati decine di migliaia di volte tra una cosa e l'altra e ovviamente trovate tutte le tipologie di contratti possibili, immaginabili. Parliamo di contratti di sublocazione, contratti per lavorare con dei soci, contratti di property management, contratti di sola gestione online, eccetera, eccetera, eccetera. Nel video di oggi vi spiegherò comunque in generale a che cosa fare attenzione quando lavoriamo sfruttando questo strumento importantissimo ed indispensabile che sono appunto i contratti. Partiamo dal presupposto che in questo business, ma in generale in qualsiasi business, la contrattualistica è fondamentale. La prima cosa che fai anche solo quando richiedi una sim o una tessera al supermercato è firmare un modulo. Bene, quel modulo alla fine non è nient'altro che un contratto tra te e l'ente che sta ad esempio emettendo la carta o la sim. E dal nostro punto di vista è la stessa identica cosa, con la differenza che non stiamo richiedendo la carta fedeltà del supermercato, ma stiamo creando una rendita nell'ordine delle migliaia o decine di migliaia di euro al mese. Quindi è importantissimo basare il nostro business su dei contratti che siano solidi. Anche se un domani voleste rivendere la vostra attività, ad esempio avete un portfoglio di 25 proprietà, quel portfoglio, quell'azienda che avete creato con 25 proprietà, può arrivare a valere centinaia di migliaia di euro. Però la differenza tra il valere zero e il valere centinaia di migliaia di euro è proprio lì, nei contratti. Perché se voi avete dei contratti fatti male, che non vi tutelano, dove magari il proprietario vi può non pagare o letteralmente vi può togliere la casa nel giro di un giorno, quei contratti non valgono niente, di conseguenza la vostra azienda non vale niente. Al contrario, se utilizzate dei contratti professionali, redatti in maniera corretta, che vi tutelino, bene, avete fatto bingo, perché a quel punto la vostra azienda può valere veramente tanti ma tanti soldi. La differenza sta proprio nella tipologia di contratti che avete fatto. In questo business ci troviamo a realizzare dei contratti con tante tipologie di persone. Potenziali soci con i quali andiamo a lavorare, imprese di pulizia, proprietari di casa, agenzie immobiliari, eccetera, eccetera, eccetera. Vi rendete conto quindi che per ognuna di queste figure è indispensabile avere un contratto che sia ipertutelante, perché la legge non ammette ignoranza. E se voi avete fatto un errore nel contratto, nessuno verrà in vostro soccorso, nessuno vi aiuterà a risolvere il problema, vi siete fregati con le vostre stesse mani. E non voglio fare terrorismo psicologico, ma ormai sono tanti anni che faccio questo lavoro, ho formato oltre 4.000 persone con Bemby Academy, che tra le varie cose è l'accademia di formazione più grande d'Europa, e soprattutto ho visto tanti casi di persone che sono arrivate da me, dopo aver fatto in autonomia o essersi affidati a percorsi strani, con problemi dove magari i proprietari non gli pagavano, piuttosto che i proprietari gli disdicevano il mandato e non potevano fare nulla per tutelarsi proprio perché hanno utilizzato dei contratti di scarsa qualità. E non è che potete venire a chiedermi aiuto dopo che avete utilizzato dei contratti di scarsa qualità. La miglior cura è la prevenzione. Prevenire è meglio che curare. Quindi la miglior cosa è partire sin da subito con dei contratti al 100% sicuri, al 100% tutelanti e di conseguenza che vi facciano operare in maniera 100% sicura. Perché potrebbe anche essere che per un contratto sbagliato di punto in bianco dopo un anno perdete letteralmente tutto quanto. Dopodiché un altro errore che spesso viene commesso dalle persone è dire ma sì, ma io lavoro con mio zio, mio padre, mia sorella, la mia fidanzata o il mio migliore amico, quindi non ho bisogno di un contratto. Errato, niente di più sbagliato, perché quando le cose vanno bene siamo tutti contenti, si va tutti d'accordo, ma le due principali cause del fallimento di società sono i litigi tra soci e soprattutto quando le persone vedono tanto denaro magari tendono a fregare l'altro. Quindi può essere che voi lavoriate con la persona che reputate la più sincera, la più sicura, la più affidabile di questo mondo, ma dal momento in cui poi magari vedono che si sta guadagnando tanto denaro provano a fregarvi. Oppure le cose non stanno andando bene e vi lasciano col cerino in mano. Ecco perché è importantissimo anche nei confronti di persone che reputiamo estremamente affidabili e fidate avere una contrattualistica che vi tuteli. Perché diciamocelo chiaramente, non puoi costruire un business solido senza dei contratti. Non puoi costruire un business solido basandoti sulla fiducia. È importante fidarsi delle persone accanto a noi, ma è altrettanto importante avere comunque come garanzia dei contratti. Perché verba volant, scripta manent. Quindi le parole volano via col vento, ciò che è scritto rimane. Andiamo dunque ad analizzare i contratti più importanti per chi svolge il business degli affitti brevi. Il primo in assoluto è ovviamente il contratto di mandato di gestione. È un contratto che ci permette di operare sull'immobile, anche ad investimento zero e che ci permette non solo di gestirlo, ma anche di avere il diritto di incassare una ben definita percentuale sugli incassi che andremo a generare. Quindi questo contratto mi permette di avere le chiavi di casa, di pubblicare l'immobile sulle varie piattaforme, di generare questi incassi e di pretendere il pagamento, ad esempio, del 35% di tutti gli incassi che vengono generati. Questo è molto utile, se non indispensabile, per avviare il nostro business. Perché potremmo anche convincere un proprietario a voce senza firmare un contratto, dopodiché arrivano gli incassi e questa persona non ci paga e noi non abbiamo nessun elemento al nostro supporto che ci permetta di pretendere quei soldi. Oltre a questo, come dicevo prima, questi contratti ci permettono di avere anche la sicurezza che il proprietario non ci può togliere l'immobile da un giorno all'altro o solo perché gli gira così e ci non solo tutela garantendoci di avere la sicurezza che guadagneremo da quell'immobile per un lasso di tempo minimo garantito e ben definito. Ma ci permette anche un domani di poter rivendere questo contratto o la nostra azienda che possiede questi contratti ad una cifra molto alta. Quindi non solo guadagniamo magari mille euro al mese grazie a quel contratto, ma gli diamo anche un valore che un domani costituirà il valore della nostra azienda che eventualmente potremo rivendere. Contestualmente, per chi opera in subloccazione abbiamo un contratto molto simile che poi in realtà è completamente diverso ma per il senso che ha il contratto è molto simile. Quindi è un contratto di subloccazione che permette di subloccare l'immobile ma soprattutto stabilisce il rapporto tra noi e i proprietari di casa. Stabilisce quanto si dovrà pagare di canone di fitto ma soprattutto stabilisce quali sono le regole attraverso le quali eventualmente il proprietario può mandare disdette e quindi rientrare in possesso dell'immobile. spoiler nei nostri contratti ovviamente è molto difficile che il proprietario rientri in possesso dell'immobile e in secondo luogo stabilisce anche la durata del nostro rapporto perché ovviamente un contratto di subloccazione della durata di sei mesi vale molto meno rispetto ad un contratto di subloccazione della durata di otto anni. A questo punto alcuni di voi potrebbero pensare a Ludovico ma se è così svantaggioso che poi svantaggioso in realtà non è il proprietario di casa non firmerà mai questa tipologia di contratti. e invece ti sbagli di grosso i nostri contratti di subloccazione sono stati firmati oltre mille volte da proprietari di casa perché magari tutelano anche di più noi rispetto a lui ed è giusto così ognuno cura i propri interessi ma sono scritti talmente bene dai nostri avvocati che il proprietario talvolta non se ne accorge neanche di ciò che diciamo sta firmando o meglio lo capisce ma dall'altra parte si sente comunque tutelato perché i contratti sono ben fatti e di conseguenza lui firma in maniera soddisfatta noi anche perché sappiamo che siamo ipertutelati il proprietario non ci può togliere la casa da un giorno all'altro e noi abbiamo guadagni garantiti da qui in avanti e ancora una volta chiaramente l'avere la garanzia di avere questo immobile per molti anni ci permette un domani di rivendere questo contratto ad un valore molto alto ma se dall'altra parte cambiassimo idea volessimo lasciare questo immobile per qualsiasi motivo noi siamo sempre tutelati e possiamo mandare la disdetta praticamente come quando vogliamo dall'altra parte il proprietario non può fare lo stesso ed ecco perché sono contratti molto tutelanti dal nostro punto di vista quindi dal punto di vista di noi che facciamo questa professione che siamo host che investiamo nella sublocazione ma dall'altra parte il proprietario non può toglierci l'immobile per guadagnarci lui siamo noi che dobbiamo mandare praticamente la disdetta ma non finisce qui perché come dicevo in B&B Academy troviamo letteralmente decine di contratti un altro contratto molto importante è quello di locazione turistica che facciamo firmare in forma automatizzata all'ospite ogni qualvolta soggiorna nel nostro immobile quindi è un contratto importantissimo che regolamenta il rapporto tra noi e l'ospite ma non dobbiamo star lì ogni volta ad andare a firmare il contratto digitalizziamo il tutto quindi possiamo farlo da remoto e in maniera automatica ma soprattutto siamo comunque tutelati e completamente a norma di legge quindi non si tratta solo di avere i migliori contratti che ovviamente trovate dentro B&B Academy ma si tratta anche di sapere come e quando farli firmare questi contratti e soprattutto come automatizzare questa tipologia di firma quindi la firma di contratti che possono essere diciamo richiesti che devono essere firmati con una elevata frequenza il contratto di sublocazione si firma una volta praticamente ogni 8 anni il contratto di locazione potrebbe essere potenzialmente da dover firmare tutti i giorni ma ancora una volta non vi preoccupate perché in B&B Academy vi insegniamo come automatizzare questo processo esiste poi ad esempio un contratto dove vuoi prendere in gestione un immobile di un tuo parente vuoi incassare tu il 100% dei guadagni ma l'immobile non è intestato a te ovviamente esiste un contratto anche per questo che è ancora diverso da tutti quelli che abbiamo visto fino ad ora ma vi ricordo ancora una volta che c'è un pericolo incombente ovvero quello di firmare un contratto che ci è stato passato da un nostro amico che è stato fatto da un non professionista o peggio ancora scaricato da Google beh a quel punto potreste avere guai molto grossi perché ad esempio potrebbero chiedervi a titolo di cosa hai incassato questo denaro beh tu dovresti mostrare il contratto ma il contratto magari è errato non lo hai firmato o peggio ancora è un contratto completamente errato e a quel punto potresti incorrere addirittura in multe e sanzioni e questa è una cosa che non auguro assolutamente a nessuno neanche al mio peggior nemico ma se operi in maniera 100% legale con dei contratti certificati come i nostri non hai nulla di cui preoccuparti immagina di trovarti in una situazione dove hai costruito un business di affitti brevi che ti genera 3 barra 5.000 euro al mese e da un giorno all'altro vedi tutto svanire semplicemente perché non hai utilizzato i contratti corretti o hai scaricato un contratto trovato su Google ecco perché in B&B Academy ci siamo avvalsi di avvocati professionisti tra cui l'avvocato Davide Orto molto celebre nel settore del business che è un avvocato tributarista che tra le varie cose ha scritto anche pareri per il tribunale di Milano è l'avvocato che personalmente mi segue da tantissimi anni col quale ho sviluppato anche alcuni dei miei business di maggior successo come Rental Pro ed è un sinonimo di garanzia per chiunque entri dentro B&B Academy perché si troverà contratti redati da lui inutile dirvi che questi contratti mi sono costati migliaia e migliaia di euro ma sono ben felice di darli a disposizione della mia community B&B Academy questo tra le varie cose vi permette di operare in assoluta tranquillità di essere tutelati al 100% e di costruire un business di valore inattaccabile di maniera tale che un domani potenzialmente possa anche essere venduto o che semplicemente vi permetta di vivere sereni consapevoli e consci che il vostro business è inattaccabile spero che questo video vi sia piaciuto i contratti sono veramente tantissimi in B&B Academy poi ogni contratto viene corredato da una lezione di spiegazione che vi spiega effettivamente a cosa serve come compilarlo eccetera 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 se ancora non sapete bene se questo business fa il caso vostro volete capirne di più e quant'altro qua in descrizione trovate ben due contenuti in regalo il primo è un ebook che vi spiega come partire da zero senza competenze senza basi e anche senza investimento nel mondo degli affitti brevi il secondo è la possibilità di fare una ricerca di mercato gratuita con il mio team per capire nella vostra zona quanto si può guadagnare con il business degli affitti brevi per questo video è tutto metti un bel like iscriviti al canale ci vediamo nel prossimo ciao ciao